Ragazzi Sfera e Basta mi ha inviato un'amicizia su Fortit Io non so se sia lui Non sono manco sicuro che è il suo account Però il nome è quello Io mi fido e adesso provo a invitarlo nel lobby Io intanto gli accetto l'amicizia Vediamo se c'è tra gli amici e se mi invita Ok raga mi ha invitato Mi ha invitato Provevo a mandare Bro Bro ci sei? No mi sa che non parla ragazzi Mi sa che non parla Bro ci sei Sfera? Mi puoi scrivere in chat? Sei te? È livello 4 e non so manco sicuro che sia lui raga Prova a ballare bro Non lo so Tu mi senti? Puoi parlare? Ok raga sta ballando Forse è lui Forse è lui raga sta ballando Non lo so Non lo so Puoi scrivere in chat bro Puoi scrivere qualcosa Qualunque cosa bella Puoi parlare niente Non puoi fare niente bro Niente raga mi sa che posso solo parlare Eh no eccolo qua eccolo qua eccolo qua Scritto bella ragazzi Ok Non lo so raga se è lui eh Non lo so Mi ha inviato adesso la richiesta d'amicizia Secondo me è lui Secondo me potrebbe essere lui Sta continuando a scrivere raga Qui c'è il vostro amatissimo Sfera e basta Potrebbe essere lui raga Sapete? Non lo so Non lo so non ho un'idea Secondo me è lui Secondo me è lui Quindi secondo me potrebbe pure essere lui Voi che dite raga? Ok raga ha messo pronto Ha messo pronto Forse Vuole giocare? Non so raga Io provo a mettere due Non lo so Non Secondo me può giocare Secondo me vuole giocare Non lo so raga Perché ha scritto in chat Però non mi sa che non ha il microfono Facciamo una partita Sì 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 bro Dai andiamo 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 Eh no Dio raga Non ci voglio credere Mi sa che è lui Mi sa che è lui Oh mio dio Oh mio dio raga Io non lo so Non sono sicuro Però raga è a livello 4 Mi sa che ha installato da poco Forte Non lo so raga Secondo me è lui C'è una probabilità abbastanza alta Che secondo me sia lui Dove vuoi andare bro? Vediamo se ho messo il segno sulla mappa Eh non lo so raga Ma secondo me potrebbe pure essere lui Uh raga vuole andare a burgo Vuole andare a burgo Oddio non ci voglio credere raga Oddio 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 Dai andiamo bro Secondo me è appena iniziato a giocare raga Non lo so Perché è a livello 4 E non ha skin Non so raga Se mai raga lo invito in stream E gli regalo una skin Voi che dite raga Voi che dite C'è gente bro eh Io vado qua Io vado qua Se è che c'è un team Ok forse due team Non lo so No no c'è uno che sta andando via bro eh Io vado qua Io vado qua Ok un tac Mi sa che è andato alla casa Ma andiamo bro Andiamo andiamo a prendere il loot Eccolo lì L'amico 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 Te lo fai bro Eh vado io Vado io Vado io Ah non c'è chi lato Vabbè Ma è una bestia raga Non lo so raga Secondo me Secondo me è lui Secondo me è lui Perché Non lo so Cioè mi ha inviato la richiesta così D'amicizia a caso Raga Me l'ha inviata a caso la richiesta Non ho fatto niente Sento spari bro eh Sento spari Mi sa che sono qua Eh però io non ho scelto Io sono messo male Li senti? Li senti? Sta sparando? C'è gente qua eh Attento Eccoli là Li vedi? 20 20 20 ancora Morto uno Sta affaitando Sono là Sono là Sono là Sto mancando tutte le volte Un HP Un HP bro Un HP Grande bro Dunque raga Ditemi che ne pensate Se secondo voi è il vero sfera Secondo me sì Secondo me potrebbe essere Dimmi bro È vero raga Sta dicendo di sì Sta dicendo di sì Con la testa raga Non lo so Voi che ne pensate? Voi che ne pensate? Eh dice che è lui Dice che è il vero Ma il microfono bro Non è il microfono vero? Non stai parlando? No non ha il microfono raga Non ha il microfono Eh infatti l'ho visto Andiamo a farci il camion Dello sdorp bro Proviamo un attimo Però io vorrei gente Sinceramente vorrei trovare Un po' di gente Perché non ho ancora visto Bene come gioca Secondo me è pure bravo Perché da quello Che ho visto prima Ho fatto due kill Nel senso Non è che fa un schifo Due kill Ovvio Prendiamo ancora la barca bro Vai andiamo Comunque raga Vi ricordo di inserire Nello shop il codice POU Per supportarmi E se mi mandate la foto Oppure il video Che scioppate Con il mio codice creatore Potete pure entrare Dentro un mio video su youtube E potete avere la memicizia E giocare con me Quando volete Sono anche ogni giorno In live Alle 20 e 30 Vai bro la safe Alla vuoi andare A prendere l'elicottero Non lo so Oh gente 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 Là in fondo Sono fuori safe Però io andrei A prendere l'elicottero Sinceramente Voglio fare un po' Di fare un po' di kill Li vedi Li vedi Sono due Sta sparando 20 Blu Vai bro 20 bianco 20 bianco Grande bro Un altro Ce n'è un altro Là Non lo vedo Non lo vedo No 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 Non lo vedo Però Andiamo Pushiamolo Ok raga Ho un altro kill Forse lo fa raga Oh se ne è fatto Se ne è fatto Se ne è fatto Ma è una bestia Eccolo là 20 bianco 20 bianco 1 hp 1 hp Così come lo sono fatto io GG Mi sembra che stava Combattendo contro Gli henchman Uuuuh A capo oro Dai raga Mi raccomando Io la voglio vincere Sta partita Cavolo sto giocando Con sfera raga Oddio mio Andiamo bro Prendiamo l'elicottero Prendiamo l'elicottero Hai visto gente bro Dai Andiamo 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 Eh sta casa qua Però non è lootata No no Io sinceramente Non ci andrei Vorrei andare A fare un po' di kill Vai andiamo all'agenzia Ah cattivo cattivo Ci vuoi andare Allora scusami bro Dai Andiamo diretti all'agenzia Magari non è manco lootata Qualcuno non ha preso Neanche la La Tommy gun Raga mi sa che non è loot Mi sa che non è loot Volendo potrei prenderla Raga non è loot Io voglio provare A lasciargli la Tommy gun A sfera Vediamo com'è Prenditi la Tommy gun Voglio vedere come sei Vediamo raga Come se la gioca Adesso ho appena preso la Tommy gun Madonna Rai che sono troppo curioso Vai killiamo Sti henchman Easy No Voi non rompete Ecco Ecco Avuto nostro Vediamo Rimuorare un po' qua Che insomma Magari poi arriva qualcuno E' la fine Vai Vediamo cosa trovo Uh No No Però preferirei usare la K Oggi mi va di usare la K Sinceramente Vai fatti questi bro Ah pure poca vita È vero pure poca vita Volendo ti potrei dare Ah ok vai ce l'ha Ce l'hai ce l'hai ce l'hai Uh Questa come la prendo però La mini gun Con la Tommy gun Raga alla fine È la fine È la fine Se la vinciamo raga Voglio un bel like Un'iscrizione Subito Adesso proprio Ragazzi state collegati Perché non so manco Se è lui Poi magari alla fine Magari ci dirà qualcosa Voi che dite Ma che dite raga Io non lo so Secondo me potrà pure dirci qualcosa Siamo in otto Siamo in otto Raga la partita si fa interessante Ci sta sparando Forse Ci sta sparando bro Ci sta sparando Oddio L'ha chilato Oddio Oddio 134 metri No way Eh bro usiamo una jump Usiamo una jump Faccio quella scala Vieni qua Vieni qua Attento che se ci butta in giù È la fine eh Vai io la metto Io la metto Qua tutta protetta Vai messa L'hai visti bro Oddio L'ha chilato un altro Stai calmo bro Non ci voglio credere raga È fortissimo Ma come vuoi essere così forte È una bestia raga Oh ma quanti kill sta facendo Hai Hai 6 kill bro Ma veramente Hai 6 kill No raga Ma io non ci voglio credere È una bestia Secondo me raga È il vero sfera Non ci voglio credere Poi glielo chiedo Il lobby Voi restate connessi raga Secondo me È il vero Sfera Ne hai chilato un altro 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 Oh mio dio Sta sparando bro Da me Da me Da me Guarda tu Bro Distrutto Distrutto Vai morto 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 Siamo 2v2 Siamo 2v2 bro Mi raccomando Vinciamola E io non ho un pupo buono Però eh Però raga Madò Sfera è fortissima Raga E mica credevo Fosse così forte Eccoli l'hai visto L'hai visto L'hai visto Uno è là eh Vi vedo con la tommigan Con la minigun Vi vedo con la minigun bro Mi ha visto Provando a sparare Morto morto Siamo 2v1 bro Siamo 2v1 Dai ce lo facciamo easy Ce lo facciamo easy bro Dai L'hai visto? Secondo me l'ha visto Secondo me potrebbe averlo visto Dai ti lascio l'ultima kill bro L'hai visto raga Mi sa che l'hai visto Sì Sta sparando Là eh 27 Blu eh Craccato Madò raga GG GG raga GG Ma che bestia sei sfida No bro Raga io non ci credo Raga io non ci credo Ma che partita abbiamo fatto Ma che partita ha fatto Oh mio dio raga Ma che partita abbiamo fatto Assurdo Sfera posso sapere Se sei il vero Sei te il vero Eh sappiamo che non ha il microfono GG adesso doveva andare Che devo registrare un nuovo pezzo Oh mio dio raga Mi sa che è lui Mi sa che è lui raga Non ci voglio credere Mi sa che è lui Dopo questo mi sa che è lui Secondo me è lui raga Io non ci voglio credere Quindi non puoi proprio parlare Non puoi parlare Zero Poi magari ci rivediamo Oh no Oddio raga Mi sa che era lui Mi sa che era lui raga Non lo so Non ci voglio credere Comunque raga Secondo me È lui Perché Secondo me è lui Secondo me è lui Secondo me c'è tipo L'80% Che sia lui Comunque raga è fortissimo Cioè Mi sa che era la sua prima partita Non lo so Era a livello 4 Adesso già a livello 10 Secondo me raga È lui Potrebbe essere lui 80% È troppo forte raga Cioè veramente ha fatto un botto di kill Mi ha aiutato un botto Secondo me raga è lui Commentatemi se è lui o no Secondo voi Secondo me sì Io lo Secondo me sì raga Secondo me sì Perché A parte che è fortissimo Però non so se gioca veramente a forte Comunque Ma sfera è basta Quindi Potrebbe pure essere lui Ragazzi in questo video raggiungiamo i 100 like 100 like comunque non sono pochi Nel prossimo video facciamo creativa Io e sfera No raga è andato via No è andato via Eh niente raga Eh mi sa che è andato via Eh mi sa che non torna raga Non lo so Mi sa che non torna Vabbè però secondo me era lui Ditemi voi che ne pensate Perché secondo me era lui Con questo raga io vi saluto E vi do appuntamento al prossimo video Anzi Anche alla prossima live Sono in live ogni giorno alle 20 e 30 E niente Chissà se era il vero sfera Vabbè che dite raga Vabbè dai raga ci vediamo Codice che cosa ne può Se volete supportarmi Bella boys Codice che cosa ne può